Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo episodio della Curse d'Adventure Oggi Alan non è potuto entrare perchè il suo telefonino non fa Quindi ho potuto entrare anche lui Perchè sono qui? Cos'è sta cosa? Cos'è sta cosa? Ho fatto la farm di Cobblestone, infatti se apro, Cobblestone è un secchio Anche Ryan non è potuto entrare, vero? Perchè Ryan sta lavorando Merda sto capendo Io sto ancora lavorando per il nuovo server copiato Cioè Ryan sta facendo il suo nuovo server Comunque se siete su Pocket E non potete fare i cartelli colorati con il colorante Vero Ryan? Sulla Pocket non si può fare i cartelli colorati No No, non si può Vi faccio vedere come si fa allora Prendete, vi create un bel cartello, giusto Ale? Sì, posso chiedere una cosa? No Di entrare nella cosa? Ah appunto, questo video è sponsorizzato Dal server Minecraft di Ryan Andate su TikTok di Ryan Zitto, eh E potete farli colorati usando questo simbolo E poi davanti ci mettete La combinazione di numeri e lette giuste per fare i numeri Tipo io mi scrivo 5 Guardate E scrivo No Viva Minecraft No Voglio farlo rosso Dov'è il rosso? 4 Viva Scott Ah, ogni volta andate a capo dovete Dovete Cosare, avete visto? Comunque funziona questa farm, guardate A parte quando cade tutto nella lava, vero Ale? Questo si crea Voi scavate Va tutto nel lock Come questi due cartelli Comunque Io ci sono E' l'ama che ho rapito Dal vendicante No, no Cosa ho fatto Mettiamo un po' di terra Ah, qui bisogna Stivali Tipo questi Perché hanno Frost Walker Non so Sono quelli che erano lì dentro Un orso polare Attenti Come così potete vedere tutti gli enchants Che ho nell'arco Ed è molto buono Allora Qui dentro c'è chiuso Ryan Infatti Guardate cosa faccio Ma Sei in survival? Sì Vanilla Non è una vanilla hardcore Ma è una Cosa maledetta Quindi Ale Scusate Devo andare a scaricarla Però fino adesso In confronto all'episodio 2 Dall'altra volta Non c'è molta roba pericolosa Un sacco di farm da fastidio Lì c'è un pillager che è morto male Anche tu ci muori male Che mi ha sparato Spero di mociolare il loot Da minchione del villager zone Mostro Comunque credo sia esploso un creeper Io non ho un letto Quindi non Un Un fantasma Vieni vieni No ragazzi Quitto Adesso ragazzi Mi sono chiuso qui sopra Vi ricordate questo posto Ovviamente sì Perché mi stava zaccagnando Quel phantom Del merda Da qui non mi dovrebbe prendere Intanto Ale Stia scaricando il suo Bel minecraft Ti ho fatto così? Ho finito il Il Coniglio Tanto quando sorge il sole Dovrebbe morire Ma ti ho fatto così? Sì sì Spingi continua Anche finito? Sì sì Fatti Ti metto qui Il totem E toque Ci entrerò Ho visto il phantom come merdoso Tu dove fai qua? Se chiudo qua è meglio Perché da qua non dovrebbe arrivare niente Adesso devo spammare questo coso Finché non passa avanti Guardatelo Strunz Non è possibile che non lo becco? Non è possibile che non lo becco? Dai Se lo lancio così ti becco perfetto Lui mi becco sempre Perché è uno stronzo Però se mi infilo qui dentro Chiudo così Non mi può beccare Solo dall'alto Quindi so da dove colpirlo Ok ragazzi Uccido quel phantom Un po' riavvio il video E G E giorno E Boh Comunque nel scorso video Avevo detto che andavo lì Che mi sembra di vedere Dei blocchi strani Guardate Sembrano dei blocchi strani Beh anche io col mio italiano Siamo bravissimi Mangiamo un po' di carne marcia Perché ho finito il cibo Tanto quando ha le Si sta prendendo tilano Si No Si chiama minecraft Perché Quello che è A parte che tutti Più o meno tutti Sanno cos'è Eh Tilano Però questi alberi Non è che mi piacciono tanto Gli alberi di barile Ho finito il cibo Sono bellissimi i tuoi alberi Si ma non li ho messi Si sono messi Da aerobrine Allora da quel che vedo C'è un albero che piglia fuoco No E lo shagai Quello Credo che in mezzo al vetro Closed Eie On Take teeth Chiudi gli occhi Guarda Prendi questo Sono Teste Sono le teste degli endoscheletri Cioè degli animatronics Ma Ma Chiudi gli occhi E prendere questo Ma In teoria in mezzo al vetro Lui non mi vede Mettiamo springtrap Che è il mio preferito Ma C'è davvero il cibo Quindi In pratica adesso Visto che ho Il cappello di springtrap Lui non mi vede Si ma è aperto Ma io l'ho guardato Mi manca il vetro Ho richiuso Per sicurezza Qui c'è lo shagai Lo shagai rompe il vetro Vero Alexander Lo shagai Lo rompe il vetro Te lo dico subito In teoria attraverso il vetro Lui non mi vede Giusto? Che ne so Ah Per me l'ho guardato Faccia a faccia Avevo la maschera Di springtrap Giusto Non va sto schifo L'account che ti ho messo Ale è lì Eh Lo devi cliccare Scemo Lo devi cliccare Il tuo account E uscire Allora Qui c'è L'essere più stupidino In questo pianeta Poi già Selezionato C'è del gioco Oh no Mi si è spento pure il telefono Spionge ok E riclicca Ora ragazzi Ho aiutato Ale a finire di scaricare minecraft Perché è stupidino Lui prima l'ho visto in faccia a faccia con la maschera Quindi dovrebbe essere innocuo Finché ho la maschera Ne ho Cinque Quindi dovrebbero andare bene Per lei Giusto Signora Ti vedi dal vetro No non mi vedi dal vetro Ma prima vedi dove c'è la terra Ho dovuto rimettere Ho dovuto mettere la terra Perché non c'era niente L'ho guardato Faccia a faccia Non ho fatto niente Ma forse non riesce a rompere La sabbia No Lui rompe tutto Fidati Perché non rompe Abbiamo visto nel video Quello lì dove combatteva con Aerobrine Ah Nell'altra serie No E per niente attacca il cazzo Perché se parte Lui Siamo fottuti Quindi Sarei tentato di circondarlo di lava Ma poi si incazza con la vita Quindi Quindi metti la lava sul tetto Quindi 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 Amico Quindi Ale Segnati le coordinate 93 Pet 97 Pet 81 A pet No Le segnate sì No Segnale ora 93 97 Poi sopra A casa tua Non ce l'ho la casa Tu segnale e basta 93 97 91 93 97 71 Bravo E' fatto Fine No Tanto segnale dopo Tanto segnale dopo Tanto te l'ho detto E dovresti sapere Non capisco Sopra c'è il vetro Mi sembra di sì Comunque Provo Provo a fissarlo Non fa niente Non fa niente quindi Dovrebbe essere a posto Sopra E' un po' di sì Sopra Sopra Sembra Cosa ho detto Zitto Sembra esserci il vetro per tutto A parte in quel lato dove non c'era Insaliamo qui E ci vediamo al prossimo video Della Cursed Adventure Quindi Quindi vi saluto E ciao 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 Ciao